Buonasera a tutti gli amici di Neve Appennino. La tendenza meteo per la settimana entrante non vede nessuna variazione meteorologica rispetto alle precedenti. L'alta pressione, specialmente, tra lunedì e martedì, causerà dei valori record anche in alta montagna. Da mercoledì inizieremo a vedere un primo accenno di cambiamento, anche se in un contesto piuttosto mite. La grafica elaborata dal Centro di Calcolo Europeo, mostra come nel periodo che va dal 5 al 12 di febbraio l'intero territorio europeo risulterà ancora una volta interessato da anomalie termiche nettamente al di sopra delle medie stagionali. Un cambiamento potrebbe avvenire a partire dal weekend, ma sempre in un contesto inizialmente mite e che potrebbe portare il ritorno delle piogge. Nel medio e lungo termine, al momento, non si intravedono ondate di freddo, ma si ipotizza il ritorno ad un contesto di normalità. Ci aggiorneremo in seguito. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.